ottima tecnica di base è un giocatore molto tecnico è un giocatore che con la palla al piede si vede che ci sa fare è uno che si sa inserire ha un gran tiro da fuori anche sotto ci ho messo ottimi tempi di inserimento è un buon astman tutte caratteristiche di questo giocatore qui è uno che secondo me all'utinesi potrebbe fare veramente bene potremmo farci la scommessa di anche un punto percentuale di budget metterlo come slot un quinto quinto slot o sesto slot e poi potrei prevedere per lui un buon bottino di 4 5 gol e 5 6 assist ecco va bene ragazzi io vi ricordo se il video vi è piaciuto ma anche se non vi è piaciuto lasciate un grandissimo like